15 secondi 8, 7, 6, 5, 4, 3 e basta, adesso non ho più tregua non ho tutto il nebo nessuna via, uno bollito dai, aggressivo sui cotoli ma perché cazzo ho mollato il differenziale lo vorrei sapere recupero, centro pista aia nielo siamo a due minuti di gara conduce albanese seguito da Pandisha terzo Artana quarto Capodonico albanese, Arduino Vacciago e Cardello c'è un casco rosso per Pandisha in 35 e 234 dai Rocco 2 minuti a termine posizioni invariate grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti ecco macchina un minuto 15 al termine posizioni invariate e cosa sto facendo? 30 secondi al termine 10 secondi al termine 5 secondi al termine 7 secondi al termine